in questo primo momento a presentarvi il meeting, il primo meeting che si fa qui a Greccio dei Giovani ma dietro di noi poi e insieme a noi c'è un'equipe che ha organizzato questo primo incontro Gruppo dei matti che ancora non si sono ripresi da Capodanno Sono lì ma dalle facce si vede anche dalle nostre Si vede dalle facce che sono matti Allora, come vedete qui dietro non c'è scritto meeting dei giovani, c'è scritto me, we E questa è la parola d'ordine che ci guiderà da adesso in queste tre giorni e speriamo anche in avanti Allora, perché abbiamo scelto me, we? Me, we vuol dire io e noi, lo vedete? È una parola che è a specchio L'abbiamo scelta perché fondamentalmente pensiamo che ognuno di noi deve andare verso l'altro perché nessuno di noi può rimanere chiuso in se stesso Lo vedete scritto anche negli scaldacollo che vi abbiamo dato che sono il segno distintivo di queste tre giorni La realtà che ci circonda è una realtà che è oggettiva ma che cambia Cambia in maniera importante in base a come noi la guardiamo Siamo noi ad essere il cambiamento, siamo noi a far passare l'io, cioè noi stessi, ad andare verso l'altro Spesso anche noi giovani tendiamo ad essere un po' fermi, ad aver paura di cambiare, ad aver paura di muoverci, ad aver paura di andare verso l'altro Invece non ci deve spaventare, siamo qui, siamo venuti da tutta Italia Ci sono persone che vengono anche da fuori Italia Torino alzi le mani I non italiani alzino le mani, i cittadini del mondo, dove sono? Bene, su, su Siamo cattolici, siamo musulmani, ci sono tante religioni in mezzo a noi Perché è questo il luogo in cui ognuno di noi deve andare verso l'altro, deve cambiare la realtà che ci circonda Perché abbiamo scelto Greccio? Qualcuno di voi già lo sa, qualcuno magari non lo sa Nella notte di Natale del 1223 qui San Francesco ha fatto il primo presepe al mondo Ed è da qui che quindi parte la tradizione poi del presepe San Francesco qualche settimana prima della notte di Natale va da Papa Onorio III E quando Papa Onorio III approva la regola dei Francescani In quell'occasione San Francesco chiede al Papa di poter rappresentare la notte di Betlemme E lo fa qui a Greccio E' qui che il verbo, che Gesù si fa carne E' qui quindi che a Greccio la Chiesa vuole farsi carne Anche qui, la Chiesa non è solamente spiritualità, lo è sicuramente Ma la Chiesa vuole andare incontro, la Chiesa vuole essere realtà viva in mezzo a noi E Greccio e questo MIUI, questo Meeting dei Giovani vuole essere anche questo Papa Francesco qualche tempo fa ha detto che il modo migliore per dialogare è fare qualcosa insieme E costruire, ed è quello che vogliamo fare in questi giorni E il percorso di costruzione non parte oggi, il Meeting parte oggi Francesco? No, il Meeting non parte assolutamente oggi E' partito circa un mese fa quando sulla pagina Facebook abbiamo aperto il Contest MIUI Ci è arrivato tantissimo materiale Divertente, ironico, a volte emozionante Vi posso assicurare che leggere i vostri pensieri è stato un viaggio nelle vostre teste Ed è stato qualcosa di bellissimo Non ne abbiamo ancora parlato Ma secondo me quello sarebbe uno spazio da tenere aperto, libero Ed era, e vi abbiamo chiesto una cosa in quell'occasione Liberare le vostre idee Ed è anche il senso del Meeting Liberare le nostre idee Come giovani, da giovani, per i giovani Ed è per questo che vi abbiamo chiamato qui a Greccio Perché quello che avete tirato fuori al Contest Adesso, come ha detto Chiara, qui a Greccio si deve fare carne Adesso noi dobbiamo metterci in gioco E in che modo? Abbiamo una tematica importante L'abbiamo scelta dalla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco Da Francesco, da Sisi a Papa Francesco Ed è questo il filo rosso che collegherà tutte le nostre tre giornate A proposito, tre giornate, ma in realtà parliamo di circa 48 ore Quindi vi preghiamo di una cosa Buttatevi subito nella mischia Non aspettate Ci saranno diversi ospiti in questi giorni Beh, se vi viene in mente una domanda Fatela, non abbiate paura Noi siamo qui per questo E i nostri ospiti sono qui per motivarci E tirarci fuori dei pensieri E questi pensieri devono uscire Devono uscire Per tanto tempo siamo stati delle isole Ci siamo isolati da soli Ci siamo autoesclusi da tante opportunità Beh, questa è un'occasione importante Che noi non possiamo perdere Dobbiamo coglierla adesso E non possiamo farlo se non creando dei ponti Per collegarci ad una terra ferma E la tematica è proprio questo Tre tematiche Una tematica importante Con tre giorni diversi La prima, oggi La cultura dello spreco e dello scarto Domani, il dispendio di sé o l'impegno di sé E il terzo giorno, la cura del creato La madre terra La casa comune E la cura della casa comune Come ha detto giustamente Chiara Questo luogo parla di Francesco E chi meglio di lui Ci ha saputo parlare della cura del creato Con l'ha dotato sì Con il cantico delle creature Ebbene Francesco Ha camminato in questi nostri stessi boschi Questa terra parla di lui E noi abbiamo scelto questo luogo Sia per il tempo di Natale che ci accoglie E sia per la vicinanza con questi luoghi Che sono importantissimi E ecco Grazie di essere venuti Grazie di aver accolto il nostro invito E adesso ragazzi Adesso tocca a noi Non c'è più Bisogna liberare appunto le nostre idee Perché ricordiamoci una cosa Lo abbiamo scritto tante volte sulla pagina Tutto è connesso È vero Il mondo siamo noi Il mondo è dentro di noi Ma noi facciamo parte di questo mondo E ce ne dobbiamo rendere conto In che modo? Sviscerando appunto queste tematiche Allora Voglio sentire le mani di prima Ci sono ancora Che battono Ve lo fate sentire L'applauso? Più forte Allora È con grande piacere Che apriamo il MIUI 2016 Con due ospiti Che chiamiamo a testimoniare A portare diciamo La loro esperienza Qui tra noi Importante Questi momenti Non sono momenti In cui noi siamo seduti Sulla sedia Ascoltiamo Assolutamente Non è una conferenza ragazzi Qui dobbiamo interagire Dobbiamo essere Sempre pronti A fare domande Dobbiamo essere pronti Per ascoltare quello che ci dicono Allora Chiamiamo Intanto A parlare A raccontarci Un po' Della loro esperienza Michela Murgia Michela Scrittrice La conoscete Sarda Sarda Che abbiamo chiamato Perché può darci Un'importante testimonianza Sul ruolo Della donna Ma soprattutto Su quello che Ognuno di noi Può fare Per impegnarsi Con gli altri Su quello che è Diciamo La visione Di una scrittrice Di una donna Del nostro tempo E chiamiamo Don Paolo Giulietti Vescovo Osigliare di Perugia Che è impegnato Con i giovani Li facciamo Accomodare Una cosa importante Ragazzi Allora Adesso Loro ci racconteranno Un po' La loro esperienza Dopo Chiunque di voi Può fare Delle domande Curiosità Siamo pronti Ad ascoltarvi Loro sono pronti A rispondervi Il microfono A vostra disposizione Lì dietro Se vedete c'è scritto Per intervenire Con messaggio Whatsapp C'è un numero di telefono Se volete Potete mandare Un messaggio Whatsapp A quel numero Con una domanda Una curiosità Che vi viene in mente Quando loro parlano E poi la leggiamo E la condividiamo Tutti quanti Quindi un applauso A Michela Murgia A Don Paolo Giulietti Chiedo a Don Paolo Chiedo a Don Paolo Se puoi Cominciare tu Con una tua Testimonianza E siamo Con le orecchie aperte Con i cuori aperti Con la mente aperta Ad ascoltarti Forza ragazzi Si comincia Bene Buonasera a tutti Sono contento Di essere qui Perché Questo posto È importante Per una cosa Che faccio Poi video alla fine E anche perché Ogni tanto Torno Sul luogo del delitto Cioè A occuparmi dei giovani Cosa che ormai È da un po' Che non faccio più Perché negli ultimi anni Ho fatto il parro Con il vicario generale Quindi i giovani Li ho visti Un po' meno Che non Negli anni In cui Tanti prati Qui ci siamo incontrati Lavorando con i ragazzi Parlando della cultura Allora dello scarto Mi sono immaginato Di rispondere a una domanda In che modo In questo nostro paese I giovani sono scartati E sono sprecati Lo faccio senza pessimismo Proprio perché Siamo qui a Greccio Dove Francesco Ha potuto Contemplare Anche nella povertà Di Betlemme La presenza Della forza di Dio E quindi Nel dirci queste cose Non abbiamo paura Di guardare in faccia La realtà Anche se la realtà Non è semplice Da accettare Lo facciamo Nello spirito Di quello che diceva Santo Masomoro Signore dammi La forza Di cambiare Quello che si può cambiare Di accettare Quello che non si può cambiare Soprattutto la sapienza Di distinguere Le une cose Dalle altre Io mi sono immaginato Di parlare Di cultura dello scarto Applicata al mondo giovanile Attraverso tre parole Lo fa anche il Papa Si fa anche noi Le parole sono Decimati Distratti Assimilati Cominciò con la prima Decimati Giorni fa sul giornale Ce l'ha un dato Circa la popolazione giovanile Nell'Unione Europea E diceva Nell'Unione Europea Ci sono 70 milioni di giovani Nel solo Egitto 60 milioni Quindi voi siete pochi I giovani oggi sono pochi Il che dà alcuni vantaggi Tipo la camera singola a casa Ma anche alcuni svantaggi Si conta poco I giovani oggi contano poco Perché sono pochi Mancano all'appello Tra l'altro Sei milioni di aborti Tra l'altro Dal 74 Che non sono pochi In Italia Quindi i giovani sono pochi Essere pochi Dicevo Può avere alcuni vantaggi Ma ha lo svantaggio Che il mondo giovanile oggi Nella società Pesa poco Qualsiasi soggetto politico È molto più interessato oggi Ad accontentare i pensionati Che non i giovani Perché sono di più Perché il loro voto Pesa di più E questo fa sì che Oggi i giovani Continuano poco Nella nostra società Continuano poco L'altra parola Che voglio dire Sulla quale voglio fermarmi di più È quella dei giovani distratti Giovani distratti È un fenomeno iniziato ormai Da diversi anni In cui Noi vediamo Che le energie dei giovani Le energie dei giovani Più che spendersi Nei capitoli importanti Della vita Si spendono Nelle cosiddette vite parallele Cioè nel divertimento Nelle relazioni informali Negli ambienti Non impegnati Cioè c'è una sorta di distrazione Del mondo giovanile Che è incentivata Dalle proposte Che la società Degli adulti Fa ai giovani Le proposte Dei modelli di vita Dei modelli Di intrattenimento Dei modelli Di tempo libero Che vengono oggi rivolte Al mondo giovanile Questo fa sì che Oggi i giovani Molti giovani Siano distratti Se voi sentite Qualsiasi organizzazione Di volontariato Si lamenta Ma Non abbiamo i giovani Oppure I sindacati I partiti Dove sono i giovani In questi ambienti Dove sono Non ci sono Sono in altri ambienti Sono in altri ambienti Tempo fa parlavo In una parrocchia Del problema del lavoro Dei giovani Parlavo appunto Di alcune cose Riguardo il mondo Del lavoro Una signora Mi fa una domanda E dice Cosa devo dire A mio figlio Che ha 30 anni Non lavora Eccetera Io ho fatto un'altra domanda A che ora S'alza la mattina Mi ha risposto Ho capito Cioè Dove sono le energie Di quel ragazzo lì Dove sono le energie Dove butta Il suo tempo Il suo entusiasmo La sua preparazione Ecco Mi pare che Un elemento grave Della cultura Di oggi Nei confronti Del mondo giovanile Sia quella Di questa distrazione Per cui i giovani Si distraggono Vengono fatti distrarre Ma tanto sei giovane Pensa a divertirti Tanto sei giovane E siccome oggi La giovinezza dura parecchio Perché oggi Si è giovane in Italia Diciamo fino a 35 anni Lo Yard Che è questo istituto di ricerca Ormai è arrivato A questa data Come data terminale Della giovinezza 35 anni Se voi dite questa data In Egitto Sorridono A 35 anni Uno è quasi nonno In certi paesi A 35 anni Uno ha figli E quasi nipoti Da noi siamo ancora giovani A 35 anni Quindi dura di più La giovinezza Ma spesso è una giovinezza Distratta In cui le energie Dei giovani Si incanalano In alcuni percorsi Funzionali a cosa? A fare in modo che Il mondo giovanile Non abbia voce in capitolo Non abbia voce in capitolo E quindi la scomparsa Dei giovani O il diradarsi Dei giovani Dagli ambienti In cui ci si occupa Degli altri Dagli ambienti Del volontariato Dagli ambienti Del sindacato Dagli ambienti Della politica Ora uno si potrebbe interrogare Sono questi ambienti Per giovani? Molto spesso no Nel senso che Non c'è Una vera ospitalità Un vero interesse Ad accogliere i giovani Però sta di fatto Che neanche i giovani Si disperano tanto Di essere fuori Da questi ambienti In cui si fa La vita Del paese Si decide In qualche maniera La vita Del nostro paese Ci sono altri interessi Per carità Legittimi Nella maggior parte Dei casi Legittimi Mi ha colpito molto Una conferenza A cui sono stati invitati I giovani Delle scuole superiore Era superiore Monsignor Bagnasco A Perugia Parlava Nell'occasione Dell'ottavo centenario Di fondazione Dell'Ateneo Perugino Il settimo centenario Facceva una conferenza Molto importante Appunto sul rapporto Tra scienza e fede E c'era tanti giovani Delle scuole superiori Ai miei tempi Questa presenza Aveva fatto un casino Micidiale Perché la chiacchierava Invece tutti zitti Ma non attenti Ognuno attento Al suo smartphone Non attenti Attenti al loro smartphone Ognuno attenti all'interno